I podcast di La Sette, ovunque con te, otto e mezzo. Buonasera, benvenuti a otto e mezzo, buonasera, benvenuta Gianna Fracassi, segretaria generale della CGL collegata con noi da Rimini, buonasera Francesco Specchia, editorialista di Libero, buonasera Stefano Feltri, direttore del Quotidiano Domani, e buonasera Antonio Padellaro, editorialista del Fatto Quotidiano. Allora avete sentito, arriva la rivoluzione fiscale, come l'ha definita la stessa Premier Giorgia Meloni. Chi ci guadagna e chi ci perde, subito dopo la pubblicità. Gianna Fracassi, prima l'ho presentata come segretaria generale della CGL, lei è vice segretaria, perché sennò avremmo spodestato Landini. Allora, intanto bentornata, benvenuta. Le voglio chiedere subito della riforma fiscale che è stata varata poco fa dal Consiglio dei Ministri. Una riforma fiscale che Giorgia Meloni definisce una rivoluzione e cruciale per rilanciare l'economia italiana. Perché voi della CGL arrivate addirittura a minacciare uno sciopero generale, se abbiamo capito bene, contro una riforma del fisco, che in realtà aiuta la classe media e aiuta anche i lavoratori, anche perché meno tasse per tutti significa anche oggettivamente alzare gli stipendi dei dipendenti. Guardi, in realtà perché la riteniamo sbagliata nel metodo e nel merito. Nel metodo, come sa molto bene, noi siamo stati convocati a 48 ore da questa decisione, quindi abbiamo avuto un'illustrazione dei principali contenuti della riforma fiscale, ma il giudizio che abbiamo dato, non solo guardi come CGL, ma posso dire insieme a Cisle Will che i contenuti di questa riforma in realtà non tagliano le tasse a tutti, fanno un'operazione profondamente iniqua, perché se sarà confermata la riduzione delle tre aliquote e l'obiettivo finale della flat tax, in realtà si stanno facendo da un lato avvantaggiando i redditi più elevati e se si arrivasse all'obiettivo della flat tax c'è un piccolo problema. Due obiettivi confermati dal Ministero dell'Economia stasera. Esatto, a parte che ci dovranno anche dire con quali risorse viene finanziata, perché non può essere... Ma ci arriviamo, però voglio solo chiederle, quindi voi se necessario farete uno sciopero generale se il governo non ritira la delega fiscale? Perché adesso è varata la riforma, poi ci vorranno, ricordiamolo, 24 mesi naturalmente per attuare una riforma del fisco che è molto complicata. Ma i principi si comprendono già e quindi per quanto ci riguarda noi insieme a Cisle Will avvieremo su questo una mobilitazione nel Paese. Non so se arriveremo allo sopro generale, però le posso dire che sui temi fiscali insieme a Cisle Will avvieremo una mobilitazione nel Paese. Non è accettabile che su temi che riguardano in modo prioritario, tra l'altro, lavoratori e pensionati, si faccia un'operazione che ha i tratti della iniquità, oserei dire. E non si faccia invece, non si dia senso alla progressività contenuta in Costituzione e all'allargamento delle basi imponibili necessarie per rendere effettiva la progressività. Allora, Francesco Specchia, ti vedevo perplesso. Ha tratti di forte iniquità questa riforma e quando Landini dice che Giorgia Meloni vuole un fisco amico, ma amico di chi? Si chiede il segretario generale della CGL. Amico di chi? Amico di chi? Il fisco amico è riferito ad una parte della bozza che si chiama Tax Compliance, che in realtà è una cosa che già esiste, forse Landini lo ignora, ma lo dico io tranquillamente, esiste già nel nostro ordinamento. E riguarda praticamente un accordo tra il fisco e le grandi aziende con incassi e con fatturati superiori a 50 milioni di euro. La Coca Cola si mette d'accordo, faccio un esempio, poi il fisco, prima che tutto inizi, dice guarda, dimmi cosa ti devo dare, ma una volta che me l'hai detto non mi devi più rompere le scatole. E va perfettamente, esiste in tutto il mondo, esiste anche in Italia. Non si fa altro che prendere quel modello e importarlo, esportarlo ai cittadini comuni. Quindi si fa una sorta di compliance. E questo è il fisco amico. Anche se io ho dei dubbi, perché il fisco nei confronti dei cittadini e viceversa nutre sempre una certa diffidenza. Ma al di là di questo, non vedo nell'atteggiamento di Landini, se non una grande efficacia retorica, la sua capacità di mettersi estremamente in mostra. Tant'è che Sbarra e gli altri sono rimasti un po' bloccati da questa grande personalità di Landini, per non usare altri termini. Non vedo quali sono i motivi effettivi, perché tecnicamente non ha spiegato nulla, con tutto il rispetto. Perché la flat tax è una flat tax per ora prevista incrementalmente sugli ultimi tre anni. In più, è vero che c'è il problema di... bisogna stirare fuori la progressività, ma la progressività, come dicono tutti gli economisti, è già compensata dal taglio di deduzione e di trazioni, tant'è che la flat tax già c'è, è in voga adesso, ed è la flat tax che attiene alle partite IVA, oltre agli 80 e 60 per 65 mila euro. In più e qua ti chiedo l'unica cosa, per esempio io non mi capacito di come i sindacati non si siano impuntati sul fatto che non c'è una riga sullo statuto del contribuente. Lo statuto del contribuente è la vera legge che tutela il contribuente, una legge ordinaria che viene calpestata ogni giorno dall'Agenzia delle Entrate. Bisognava elevarla al rango di Costituzionale per evitare il caos tremendo delle esattioni. Allora, aspetta, Francesco, aspetta, do una rapida replica a Gianna Fracassi, poi voglio sentire Feltri e Padellaro. A parte la sequela di insulti che il dottor Specchia ha fatto nei confronti di Landini, mi sembra che lei sia ossessionato dalla figura del segretario generale della Cigelle, ma questo è un suo problema, non è questo il tema della discussione. No, un attimo, lasciamo finire, se no non ci capiamo, fracassi. Premesso che noi conosciamo benissimo, guardi, glielo assicuro, i temi fiscali, anche quell'allargamento di quella tax compliance a cui faceva riferimento, in cui sostanzialmente si fa un accordo preventivo, a prescindere dal ciclo economico, lei ovviamente lo saprà, quindi può aumentare o diminuire, rispetto all'imposizione dovuta. Ecco, per noi questo rappresenta una sorta, con questa forma di allargamento, di condono preventivo, così l'abbiamo definito. Seconda questione, quando abbiamo parlato di fisco amico amico a chi, stavamo ragionando del fatto che in questa riforma fiscale non ci sono interventi efficaci, a parte uno, dovuto, che non l'hanno potuto cancellare, perché è uno degli obblighi del PNRR, sulla digitalizzazione, il tema dell'evasione fiscale, del contrasto all'evasione fiscale, non è assolutamente affrontato, nei termini dovuti, in un paese che ha avuto l'armi di evasione. E qui c'è un'altra, un attimo, voglio prima sentire Stefano Feltri e poi Padellaro. Allora, tanta carne al fuoco, ti voglio chiedere chi ci guadagna e chi ci rimette con questa riforma fiscale e, diciamo, riuscire ad arrivare a mettere meno tasse per tutti, flat tax per tutti, è un obiettivo ambizioso, ma è un obiettivo col quale non si può non essere d'accordo, no? Ma, diciamo, meno tasse per tutti vuol dire che bisogna anche avere meno servizi per tutti, o comunque meno spesa pubblica per tutti, perché poi in Italia gli sprechi sono sempre quelli che vanno nelle tasche degli altri, i beneficiari degli sprechi li considerano sempre imprescindibili. Ma qui il governo Meloni sta facendo una cosa, diciamo, abbastanza semplice, riporta l'Italia al 1971, cioè prima dell'introduzione dell'IRPEF e prima che tutto il sistema fiscale fosse improntato all'idea che i redditi dovevano essere tassati allo stesso modo, a prescindere da dove fossero originati. Qui viene, diciamo, cristallizzato un sistema in cui, se tu sei così cretino da essere un lavoratore dipendente e paghi un sacco di tasse, se gli stessi soldi li fai in qualunque altro modo che sia fondato sulla rendita, cioè hai una casa da affittare, fai delle plusvalenze in borsa, fai o evadi il fisco, ecco, se tu fai i soldi in uno di questi modi sei incentivato, nel senso che, appunto, sì, la flat tax esiste, come esiste la cedolare secca sugli affitti, eccetera, tutte queste cose non servono a combattere l'evasione ma distorcono il mercato e in più c'è questa idea che invece che combattere l'evasione fiscale la si rende legale, cioè si dice alle imprese facciamo un patto prima, tu mi dici quanti soldi mi dai e poi dopo, no, non esiste già nei termini in cui lo vogliono fare, era stato un esperimento di Tremonti del 2003, che poi non è stato, diciamo, reso strutturale e permanente. È il concetto della cooperative compliance, riportata in Italia, ma ne è così? Sì, è il concetto che così ti do un incentivo a evadere prima, perché se evadi e non ti becco e facciamo l'accordo è un conto e poi ti do un incentivo a continuare a evadere perché sostanzialmente ti dico che paghi meno tasse di quelle che dovresti, quindi è una logica. Allora, un attimo vorrà intervenire Antonio Padellaro, perché molti pensano che questa svolta, quindi di fare una riforma fiscale, è una svolta attesa da anni, per esempio oggi pomeriggio a Sky il capo dell'ufficio delle entrate Ruffini ha detto che il fatto che questa riforma venga annunciata e che si cominci a metterla in opera all'inizio della legislatura è un buon segno. Quindi, diciamo, Giorgia Meloni si gioca anche una partita da un punto di vista politico molto importante e sta facendo l'occhiolino ad alcune categorie specifiche o alla fine saranno tasse più basse per tutti? No, sta facendo l'occhiolino ai suoi elettori, la traiettoria lo diciamo in soldoni da quando la Meloni al governo, i titoli di apertura dei giornali sono stati la rottamazione dei tributi dovuti, abbiamo il perdono agli evasori, perché c'è anche questa, a proposito di evasione, l'unico intervento che è stato fatto è quello del perdono all'evasione, punto finale è la flat tax, che è contrasto, l'ha detto la Fracassi benissimo, in contrasto palese con la Costituzione che prevede tutt'altro. È già in vigore Antonio? È già in vigore la flat tax? Ti ricordo, quindi dovrebbe essere... Sto parlando della flat tax applicata al... È uguale. Però scusami, abbi pazienza, arrivo per ultimo, dammi la possibilità di esprimere un solo concetto, il solo concetto è questo, che da Meloni in questo è chiarissima, cioè è trasparente, c'è una parte del Paese che a lei non interessa dal punto di vista... Sì, meno tasse per tutti la vedremo, credo di averla già sentita questa cosa di meno tasse per tutti, l'abbiamo già sentita, c'è una parte del Paese per il quale è previsto il taglio invece del reddito di cittadinanza, quindi dobbiamo vedere un quadro complessivo dove gli elettori della Meloni che sono cospicui in questo Paese, le imprese eccetera, avranno dei benefici... Ma non solo le imprese, no? Ci sono... Sì, ma anche i redditi medio-alti, vogliamo dire questo, e poi invece c'è una parte del Paese che, come diceva anche Stefano Feltri, che il lavoro, chi lavora a reddito, chi ha un reddito fisso e comunque... Allora qui la domanda è questa, Giorgia Meloni è una donna molto coraggiosa, ma ci vuole un bel coraggio ad andare domani al congresso della CGL con questo provo di programma? Eh già, perché domani Gianna Fracassi verrà lì da voi a Rimini, alla CGL, al vostro congresso, la Premier Giorgia Meloni e immagino che vi spiegherà anche più nel dettaglio in che cosa consiste la riforma fiscale, anche se ormai sappiamo tutto, poi i vari passi che si dovranno intraprendere per realizzarla, questo è un altro paio di maniche. Che cosa si aspetta, Giorgia Meloni, da questo suo intervento domani alla CGL e i vostri delegati, tra i quali c'è già un po' di malumore per l'arrivo della Meloni? Che cosa si aspettano? Ma quello che si aspetta a Giorgia Meloni non lo so, francamente. Qui Giorgia Meloni troverà quel 90% di lavoratori, lavoratrici, pensionate e pensionate, che hanno un reddito in questo paese inferiore ai 40-45 mila euro. Lo voglio ribadire perché dobbiamo avere questo punto di partenza, prima di parlare di riduzione delle tasse per il lavoro dipendente e per i pensionati. L'85% stanno sotto i 35 mila euro lordi. Allora, a questa platea, che è sostanzialmente la platea che domani incontrerà il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni dovrà spiegare quali sono i vantaggi della riforma fiscale. Dovrà spiegare per esempio perché rispetto all'obiettivo della riduzione del cuneo contributivo questa legge delega non fa menzione. Dovrà spiegare perché rispetto a un intervento come il fiscal drag per dare risposte sul versante del costo della vita il governo sostanzialmente non ha dato alcuna risposta né in legge di bilancio né tantomeno negli interventi che si stanno mettendo in campo. Qui ci sono le persone che in questo momento stanno soffrendo di più per l'inalzamento dell'inflazione, di cui nessuno parla più ma vorrei ricordare che a febbraio è il 9,2%. È quella parte del Paese che potrà interessare poco ma che è all'incirca 36 milioni tra lavoratori e lavoratrici pensionati e pensionate Ma nessuno di questi ci vedrà anche un piccolo vantaggio da questa riforma fiscale? Guardi, il piccolo vantaggio, e stiamo parlando veramente poi quando conosceremo i dettagli perché noi stiamo discutendo tra l'altro di un intervento normativo complesso di cui non conosciamo i dettagli, per esempio non conosciamo quali sono le tre aliquote che vogliono mettere in campo Certo È chiaro? Quindi il piccolo vantaggio che ci può essere, stiamo parlando veramente di pochi euro sarà assolutamente superato dai sacrifici perché come ho detto c'è un tema di cui nessuno parla ma è ineludibile quali risorse e con quali risorse si finanzia una riduzione molto forte sul versante dei redditi alti e aggiungo anche sulle imprese in cui si fa un'operazione di riduzione dell'IRES di molti punti se finalizzata a una condizionalità occupazionale che è assolutamente importante ma anche all'innovazione tra cui anche gli interventi su 4.0 Quindi tutte queste cose non sono gratuite, qualcuno le deve pagare Chi le paga e con quali risorse, ecco ad oggi questo è un mistero Ecco ma scusi Gianna Fracassi, adesso infatti questo è l'altro punto centrale ma domani non verrà fischiata Giorgia Meloni dai delegati della CGL Guardi, la CGL noi siamo un'organizzazione seria e abbiamo sempre invitato i presidenti del Consiglio poi molti hanno rinunciato a venire e a misurarsi con la nostra organizzazione io auspico di no perché non sarebbe rispettoso per la funzione Quindi è coraggiosa venire da voi Giorgia Meloni? Sicuramente lo riteniamo un segno di rispetto Chiaro Dopodiché ci divide praticamente quasi tutto direi rispetto agli obiettivi di politica economica, fiscale Mi pare che sia venuto fuori in modo abbastanza chiaro Quindi Francesco Specchia, da dove si prendono le risorse per abbassare le tasse? Perché questa è la grande questione di sempre e da sempre Ora noi sappiamo che uno dei, forse la cosa più importante che si intende fare è tagliare le famose agevolazioni fiscali che sono oltre 600 e che significano, tradotto in soldoni, 83 miliardi per lo Stato in più o in meno Quindi da dove si prenderanno le risorse? No, anche di più, si arriva quasi a 156 miliardi sulle tax expenditure Ecco, questa è l'unica cosa su cui mi permetto di avere qualche dubbio e mi avvicino un po' alle eccezioni di Stefano Felti e della dottoressa Fracassi Il fatto delle tax expenditure, cioè il taglio famoso degli sconti fiscali è una leggenda metropolitana che si tramanda di anni in anni, secoli in secoli in tutti i governi Sono 156 miliardi, adesso non possono essere anche di più 600, eccetera Il problema è che ciascuna di queste riforme, di queste tasse, di questi sconti tocca una lobby, una corporazione, un'associazione che va dai sindacati a Confindustria, dalle case farmaceutiche ai giornalisti, dai traghettatori del Lago di Como ai cinematografari Chiunque ha uno sconto fiscale E il problema grosso è che non si è mai riusciti a tagliarli questi sconti fiscali Ma Giorgia Belloni ci riuscirà? Allora, bisogna capire Perché diciamo se va come con i balneari, allora la vedo difficile E qua però tu è gioco facile perché io la penso come te sul cal balneari Io dico che i balneari tengono in scacco con 30.000 persone e tengono in scatto 7 milioni di elettori della Meloni e quindi secondo me è giusto applicare la Bolkestein Quindi da liberale è gioco facile Però ti devo dire che i due, ritornando a quel discorso i due cespi, cioè da dove prendi i soldi sono le tax expenditure e io spero che qualcosa si risolva a posto di usare la cimita Le detrazioni fiscali Detrazione e deduzioni fiscali quindi sconti e poi abbiamo invece la lotta all'evasione fiscale che in questo momento noi si è calcolato circa 99 miliardi cioè noi abbiamo un nero di circa 130-140 miliardi è un tax gap cioè la differenza tra l'accertato e l'escusso di 99 miliardi Poi anche lì, secondo me vi direte, non l'ha affatto nessuno è vero? Ma quello non vuol dire niente, magari lo farà Dalle cose interessanti che diceva Specchia viene un dubbio viene il dubbio che siamo anche di fronte alle famose armi di distrazione di massa cioè abbiamo una delega fiscale che avrà i tempi che dovrà avere non credo che sia dietro l'angolo Vanno due anni di tempo Ma poi abbiamo anche il ponte sullo stretto cioè oggi riemerge il ponte sullo stretto C'è risuscitata la società che dovrebbe costruire il ponte sullo stretto Sì, allora la sensazione qual è? Parlando di politica, di quella politica bruta che di fronte a delle difficoltà enormi che la Meloni ha incontrato in altri settori in altri campi, uno al caso l'immigrazione adesso si volta pagina e si cerca di dire al Paese guardate che facciamo sul serio avrete il ponte sullo stretto e avrete meno tasse per tutti Ho un'impressione, ma sulla base di quello che diceva Specchia che sia un po' per aria Allora, aspetta Francesco voglio sentire Stefano Feltri Restiamo un attimo sulla questione fondamentale delle risorse e della lotta all'evasione fiscale che come sappiamo è un annosissimo problema del nostro Paese Tu Stefano hai scritto che Giorgia Meloni mente sull'evasione fiscale e conferma la sua ignoranza in economia Perché un giudizio così severo? Beh è un fatto, non è un'opinione cioè lei è andata in Parlamento e ha detto che la lotta all'evasione fiscale non si è mai fatta e che dati alla mano non sembra aver avuto grandi effetti Ora, l'è andata male perché il 2022 è stato l'anno con il record del recupero di gettito dalla lotta all'evasione fiscale cioè oltre 20 miliardi di euro E quindi? E tutte le misure che la destra ha osteggiato in questi anni lo split payment, la fatturazione elettronica cose che sono enormi seccature ma sono servite e hanno ridotto pesantemente il tax gap cioè l'evasione fiscale in questi anni cioè da 106 miliardi a 89 quindi lei è andata in Parlamento e ha detto che la lotta all'evasione fiscale non funziona invece funziona, il problema è che lei non la vuole fare perché la sua idea di lotta all'evasione fiscale è di fare i condoni e darla vinta agli evasori ma se uno sentiva tutto il suo question time di ieri si aveva la percezione che lei non aveva alcuna idea di cosa parlava sui dossier economici cioè per esempio ha spiegato che l'Italia non vuole usare il MES e che invece sarebbe meglio usarlo per fare le cose che ci confindustria quando la domanda era sulla ratifica del trattato che lo modifica non sull'uso del MES cioè che il fondo salva stati però Giorgetti, scusami Stefano Fetti non ha nessuna idea sull'economia scusa Giorgetti stasera ha detto che comunque verrà fatta anche una spending review che è un altro di quei temi annosi vabbè viene da ridere ma come vanno a fare la spending review un governo che appunto preserva qualunque privilegio di categoria cioè fare solo i tagli orizzontali ai poveracci e poi se ne vergogna pure perché come ho raccontato in un articolo il ministero di Giorgetti mente anche e dice che non aumenta la disuguaglianza perché trucca i numeri per dire che le sue misure sono di destra ma non fanno peggiorare la disuguaglianza sono veramente ridicoli Stefano Specchia, vedevo che... No, no, allora io dico non ho la postanza economica del collega Feltri che ha fatto il Chicago Boys con Zingales io purtroppo ho una concezione più giuridica del MES però quello che mi domando è che se, prescindendo dal MES la penso assolutamente come te si deve ratificare ma questo è un altro discorso se fosse davvero così ignorante perché i mercati reagiscono comprandoci 10 miliardi di titoli di Stato in 4 giorni sai perché stanno fallendo le banche quando falliscono le banche si comprano titoli di Stato no, dopo abbiamo comprato i primi titoli di Stato e nella mandata precedente abbiamo fatto 3 miliardi in 48 ore quindi non è vero e tieni conto che la BC non può più comprare titoli quindi c'è un alto indice di fiducia più del 20% in imprenditoria alto indice di fiducia nella Meloni e soprattutto ci sono export all'8,8 il PIL crescita del PIL al 10,5 al netto dell'inflazione e poi abbiamo tutta una serie di performance legate come sai perfettamente lo sa meglio di me perché sei un maestro in questo quindi performance legate alla nostra manifattura che è superiore addirittura a quella della Germania quindi in questo senso noi in questo momento abbiamo tutti i parametri economici superiori a quelli degli altri se la Meloni fosse ignorante in economia sarebbe in grado di fare una roba del genere oppure è solo una botta di fortuna la Meloni è arrivata dopo il governo Draghi che ha lasciato delle cose impostate recentemente e dopo una fase in cui sono stati spesi soldi per la ripresa come in tutti i paesi guarda caso se vuoi vedere diversamente qual è il titolo di Stato che è più colpito quando c'è una crisi di fiducia quello italiano il fatto che l'Italia non sia ancora pallita è un buon segno ma io non dico che l'Italia non capisci niente di economia è una cosa diversa l'Italia c'è il 30% di listino di bancari non ci prendiamo in giro non vado a venire a me è ovvio che viene colpita sui titoli bancari perché ci sono bancari e gli energetici di cosa stiamo parlando? allora stiamo parlando di 20 miliardi che i contribuenti hanno preso i piccoli miliardi hanno investito la Meloni non sa niente di economia hanno chiesto cosa pensa del rialzo dei tassi della BCE e lei ha detto che il super bonus edilizio è cattivo cioè questo è il livello di contraria quella è una bandierina ideologica un'antimo Antonio Padellaro aspetta Francesco specchia io voglio approfittare della presenza del personaggio al vertice della CGL per chiedere se in queste ore in Francia sta succedendo una mezza rivoluzione che il governo Macron ha fatto approvare d'imperio alla riforma delle pensioni io voglio capire dal termometro che avete voi qual è il livello diciamo delle tensioni sociali nel nostro paese anche alla luce delle cose di cui stiamo parlando fracassi ma guardi c'è sicuramente una grande sofferenza dal punto di vista diciamo economico dalle persone perché i mesi che abbiamo alle spalle sono stati durissimi e di fronte a noi come sappiamo abbiamo ancora un aumento un costo della vita molto elevato perché quando aumenta l'inflazione poi per abbassarla non c'è un interruttore quindi ce l'ha detto l'Istat giusto pochi giorni fa la coda dell'inflazione sarà molto lunga quindi questo è un elemento sicuramente di grandissima difficoltà ci sono una serie di crisi aziendali non risolte e questo è l'altro tema alla luce del fatto che di fronte a noi a proposito di politiche economiche di cosa si deve fare abbiamo la necessità di mettere in campo rapidamente anche come paese non solo a livello europeo una politica industriale che sappia cogliere delle trasformazioni che rischiano altrimenti se non governate di determinare una deindustrializzazione del paese allora su questi temi e su molti altri c'è una come dire sottovalutazione devo dire piuttosto generalizzata e però il rischio è che di fronte a questo quadro noi in qualche modo arretriamo penso ad alcune filiere dall'automotive anche la stessa filiera energetica tutto l'indotto ecco se noi non ci raccordiamo con quanto sta accadendo nel resto dell'Europa rischiamo di avere un impatto pesantissimo sull'occupazione e queste cose non si possono fare tra un anno le dobbiamo fare adesso anche perché abbiamo le risorse del PNRR allora no io adesso vi voglio far vedere il punto di Paolo Pagliaro perché oggi il Consiglio dei Ministri si è occupato anche dell'autonomia differenziata che avrà un impatto forte anche sulla sanità sulla sanità pubblica guardate si chiama mobilità sanitaria significa farsi curare in una regione diversa da quella in cui si risiede nel 2020 ultimo anno per cui sono disponibili i dati si sono spesi per questo 3 miliardi e 300 milioni senza la pandemia che ha reso più difficili i trasferimenti sarebbero stati molti di più ci sono regioni che questi miliardi li hanno incassati altre che invece li hanno dovuti risarcire il rapporto GIMBE sulla mobilità sanitaria interregionale presentato oggi fotografa un flusso di denaro che scorre prevalentemente da sud a nord e in particolare verso le regioni che hanno già sottoscritto i preaccordi con il governo per la richiesta di maggiori autonomie si tratta di Emilia Romagna Lombardia e Veneto tre regioni che nei confronti di quasi tutte le altre vantano grandi crediti perché offrono grandi servizi il saldo è invece pesantemente negativo per Puglia Sicilia Lazio e Campania tutte regioni debitrici per centinaia di milioni ciascuna con la Calabria che non è in classifica solo perché mancano i dati nel centro sud l'unica eccezione virtuosa è il Molise due terzi dei rimborsi coprono i costi delle prestazioni di ricovero e dei hospital ma il dato più significativo è che oltre la metà dei ricoveri e delle visite mediche in mobilità vengono erogate da strutture private accreditate che dunque incassano un miliardo e quattrocento milioni contro il miliardo e duecento milioni destinati alle strutture pubbliche secondo Nino Cartabellotta presidente della fondazione Gimbe e coautore del rapporto si tratta di un ulteriore chiaro segnale di impoverimento del servizio sanitario nazionale Siamo in chiusura grazie Gianna Fracassi grazie Francesco Specchia grazie Stefano Feltri grazie Antonio Padellaro grazie spettatrici spettatori Lina Corrado Formiglia è sua piazza pulita quindi restate con noi e noi come sempre domani 8 e mezzo arrivederci grazie per l'ascolto tutti i podcast di La Sette sono disponibili su www.lasette.it slash podcast